Salve a tutti, mi chiamo Maria Paula Bissiri e sono la responsabile della sezione di lingua tedesca per il corso di laurea in scienze della mediazione interlinguistica e interculturale all'Università dell'Insubria. L'obiettivo di noi docenti di lingua tedesca è insegnarvi ad amare questa lingua importantissima a livello internazionale. Nei nostri corsi diamo molta importanza alla comunicazione parlata, sia in quelli delle nostre ottime esercitatrici madrelingua, sia nei miei corsi. Sono una fonetista, esperta del tedesco, una delle poche in Italia e con me imparerete i segreti per avere un'ottima pronuncia. Ora passo la parola alle mie care collaboratrici Corinna Peek, Alessandra Goggio e Ahara Bischoff. Mi chiamo Corinna Peek, sono tedesca e da oltre dieci anni faccio parte di questa università, fatto che testimonia quanto mi piace lavorare con voi, studenti universitari. Tanti di voi scegliono di studiare la lingua tedesca in quanto molto richiesta del mercato del lavoro anche della vicina Svizzera. Il mio obiettivo però è di trasmettere la passione per la cultura e la lingua tedesca. Le mie lezioni si concentrano soprattutto sull'ampliamento del lessico e delle vostre capacità attive, cioè di poter parlare e scrivere con scioltezza in tedesco. Inoltre, essendo traduttrice giurata, mi occupo per i corsi triennali della traduzione, mentre nella magistrale della traduzione giuridica. Cari future studentesse e cari futuri studenti, sono Alessandra Goggio e insegno istituzioni, storia e cultura della lingua tedesca. Cosa significa, direte voi? Nel mio corso ripercorriamo insieme la storia dei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera, dalle origini a oggi. Impariamo come funzionano queste nazioni a livello amministrativo, politico e sociale. Acquisiamo gli strumenti necessari per avvicinarsi alla cultura tedesca senza cadere in luoghi comuni e stereotipi e indaghiamo questioni di attualità come la migrazione in Germania. Questo perché da futuri mediatori dovete conoscere a fondo la realtà di questi paesi. Spero di vedervi in classe il prossimo anno per scoprire insieme che oltre all'Octoberfest, al cioccolato svizzero e alle località sciistiche austriache, i paesi di lingua tedesca offrono molto, ma molto di più. Come sapete lavorare da mediatrici e mediatori culturali significa costruire anche dei ponti tra due culture diverse. Immaginatevi allora quanto sarebbe importante saper parlare il tedesco nel nostro contesto europeo e quante porte questo vi potrebbe aprire. Noi tutti siamo qui a disposizione per aiutarvi con questo. Io personalmente mi chiamo Harra Bischoff e insegno all'Università in Subria da sei anni occupandomi sia dei corsi triennali e magistrali di mediazione e traduzione sia anche di lingua tedesca in ambito turistico. Durante queste lezioni ci concentriamo soprattutto sull'acquisizione di competenze di comprensione e produzione scritta e orale che come sapete sono entrambi fondamentali per poter lavorare in questo contesto. Lavorare infine all'Insubria mi piace perché come vedrete qui c'è il giusto equilibrio tra un'università internazionale e un piccolo mondo accademico dove tutti si sentono parte di una grande famiglia. Allora vi aspettiamo tutti all'Università dell'Insubria. Auf Wiedersehen! Bis hoffentlich bald! Wir freuen uns auf euch! Liebe Grosse von der deutschen Mannschaft! Tschüss! Tschüssi! Tschüss!